Ieri venerdì 20 ottobre nella sede CGL di Ancona è stato presentato il libro Per non tornare al buio, dialoghi sull'aborto, di cui è autrice l'onorevole Livia Turco. L'incontro è stato organizzato dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, dalla CGL Marche e dalla Fondazione Nilde Jotti. È un argomento doloroso perché c'è il rischio di tornare indietro, pur avendo un'ottima legge, legge che ha ottenuto un grande risultato, quello della drastica riduzione del ricorso all'aborto, dimostrando che le donne vivono l'aborto come un dramma, come uno scacco, però le donne che sono costrette all'aborto non possono essere lasciate sole. Questo indecente livello di obiezione di coscienza rischia di mettere a repentaglio quelli che sono diritti scritti in modo chiarissimo nella legge. Poi ho sentito il bisogno di passare il testimone. Io sono stata una di quelle che ha fatto la battaglia per avere questa legge, l'ho fatta da donna comunista e cattolica, femminista. E so quanto sia stato importante, quanto sia stato faticoso, e credo che le giovani e i giovani debbano essere consapevoli di quanto sia importante questa legge la debbano applicare. E soprattutto la grande sfida che sta di fronte a noi è quella di consentire ai nostri figli di avere i figli che desiderano, in un tempo utile, perché stiamo diventando una società sterile che non consente ai figli di avere i figli che desiderano. Ci interessa la Commissione regionale Pari Opportunità ha sin dai primi mesi del suo insediamento affrontato il tema della legge 194, della sua applicazione nel territorio regionale. Abbiamo parlato del diritto delle donne alla salute, quindi che questo diritto della legge 194 abbia un contenuto sostanziale. Oggi lo vogliamo fare con questa iniziativa, alla presenza dell'onorevole Livia Turco, con la presentazione di questo libro, che è certamente un'occasione per confrontarci sul tema.